9 dicembre 2011, ore 10 e 15, questo è il terzo in pochi minuti, che stanno accendendo a poche centinaia di metri di distanza, questo è il terzo, qui siamo nei pressi di Madonna del Pantano, e più o meno i posti sono sempre gli stessi, gli ultimi tre giorni, terra dei fuori.